La modalità che Generazione Musica ha scelto per affrontare questo argomento è quella del livello culturale. Abbiamo fatto diversi progetti al liceo Vian, al liceo artistico Paciolo di Bracciano e di Anguillara rispettivamente in cui i ragazzi hanno seguito un percorso e hanno costruito un evento insieme a noi. Se guardate su Facebook di Generazione Musica troverete anche una serie di parti di questo spettacolo che sono state scritte e interpretate proprio dai giovani studenti. Una cosa che mi ha colpito molto quando abbiamo conosciuto Carlotta e ci ha raccontato la storia legata al suo libro e a se stessa, è una domanda che alla fine di una chiacchierata lei ci ha fatto. La domanda è stata questa, perché lo fate? Devo dire che mi sono chiesto anch'io molte volte come vengono realizzati e come si animano i progetti che Generazione Musica in questi anni ha fatto prevalentemente sul sociale. E per rispondere a questa domanda mi è venuta in mente una canzone di Edoardo Bennato La Fata che noi abbiamo più volte incluso nello spettacolo No More. Le parole che secondo me rispondono a questa domanda sono queste. C'è chi ti urla che sei bella che sei una fata sei una stella poi ti fa schiava però no chiamarlo amore non si può. Allora Generazione Musica ha deciso ormai da molti anni di schierarsi e di battersi proprio perché l'amore sia quello vero. Cari amici di Generazione Musica qualche mese fa mi sono imbattuta in un libro dal titolo Qui nella penombra che mi ha incuriosito e che nelle prefazioni recita così Questa storia è scritta con tutte le parole non dette e con tutte quelle dette e mai ascoltate con quelle mai rivelate con quelle nate e cresciute nella paura e che quindi sono rimaste nascoste nella penombra del mio cuore per tutti questi anni. Questo libro parla di una storia vera fatta di sofferenza di abusi di menzogne di omertà ma anche di speranze e oggi ne parliamo qui con la sua autrice Carlotta Benedetta Bragaglia che ringraziamo per aver voluto presentare e condividere con noi questo suo lavoro e ringraziamo per essere qui con noi anche la sua professoressa del liceo professoressa di allora e correttrice di bozze in questo libro oggi Anna Maria Nonna grazie veramente per essere qui con noi. Allora Carlotta affrontando questo tema e questa tua storia è importante però anticipare e condividere con chi ci ascolterà che l'abuso sessuale è un'esperienza traumatica che determina nelle vittime gravi condizioni di disagio e di stress psicofisico nonché a volte anche gravi lesioni e patologie. Nella mente della vittima si affollano idee e pensieri continui che minano e autosqualificano continuamente la propria identità si vive quindi un continuo disvalore di se stessi con sensi di colpa e anche di vergogna. Quello che ho descritto brevemente è quello che è documentato dalla letteratura e dagli studi sugli abusi sessuali. Nel libro Tu Carlotta ripercorri i lunghi anni in cui sei stata vittima di questi abusi che hai dovuto subire. ti chiedo leggendo il libro una domanda che mi sono fatta più volte come è stato possibile che tu abbia mantenuto il segreto di questa terribile vicenda per oltre sei anni e tutto è cominciato che tu ne avevi solo dodici eri una ragazzina ecco perché quali sono state le dinamiche che hanno permesso che tutto questo continuasse per così tanto tempo? Credo che sia importante dire che c'è una differenza tra l'abuso e la violenza nello stesso momento in cui una persona subisce una violenza sessuale è un qualcosa di netto ed è chiaro mentre l'abuso nell'abuso si crea un contesto il pedofilo va a creare tutta un'impalcatura intorno ti prepara ti retisce ti come si dice ti ti plaggia ti plaggia ecco e questo è quello che è successo a me perché mio padre iniziò anche qualche tempo prima di quando iniziarono le prime carezze di quando iniziò il vero e proprio percorso a prepararmi psicologicamente io ovviamente non me ne rendevo conto e si parlava di quello che era la società di come la società limita la mente e mi mi dava dei suggerimenti pratici vai a scuola guarda renditi conto di come si comportano le persone se parli di di sesso si chiudono in loro stesse invece la sessualità è un qualcosa che è normale che è che rientra nella nella natura delle cose quindi quando iniziò tutto il percorso perché lui mascherò il suo abuso dietro con la scusa che noi stavamo affrontando un percorso verso la liberazione della mia mente io già ero in parte preparata già mi aveva preparata aveva preparato le basi e molto importante è sicuramente dire che era mio padre a farlo e che quindi c'era una fiducia di base non era un estraneo nello stesso momento in cui è tuo padre che ti racconta che ti dice sono qui per aiutarti sono qui per salvare la tua mente dalla società brutta e cattiva che vuole opprimerti da un lato mi spaventa dall'altro ah meno male che c'è papà che mi salva ok quando lui iniziò le prime carezze giustificò queste carezze proprio perché dovevamo rompere i tabù della società per far sì che la mia mente fosse libera e visto che i tabù della società sono tantissimi l'unico modo per romperli tutti e liberarmi era quello di infrangere il tabù più grande che era appunto quello dell'incesto e il percorso iniziò in maniera graduale e provavo paura e provavo rabbia nei confronti di mio padre e questa paura e questa rabbia perché stava facendo qualcosa che non comprendevo qualcosa che sentivo che mi stava facendo del male innescava i sensi di colpa e i sensi di colpa perché mi arrabbiavo ed ero spaventata nei confronti di mio padre ma mio padre mi ama mio padre è qui sta facendo un percorso per salvarmi e quindi io lo odio quindi sono cattiva io ok quindi mano a mano sempre di più e ingigantendosi sempre di più dentro di me queste sensazioni ne sono rimasta sempre più schiava è diventato un limbo parallelamente non ne potevo parlare con nessuno perché quando io provai a parlare dopo le prime carezze con mia madre mia madre litigò con mio padre perché insomma era stato ambiguo senza che sto a entrare nello specifico e mio padre attuò tutta una serie di dinamiche che resero la famiglia tesa che ci furono tantissime discussioni e io sentivo che la responsabilità era la mia perché ero stata io a parlare quindi sensi di colpa quindi bugie quindi stare zitta quindi fidarsi di papà è tutto un meccanismo che ti irretisce ti blocca e ti vincola e inoltre e qui concludo il senso di protezione nei confronti della famiglia e nei confronti di di mio padre perché ripeto nella mia testa lui stava facendo qualcosa per il mio amore quindi lo dovevo proteggere e dovevo proteggere la mia famiglia da quello che sapevo che gli avrebbe fatto del male e cioè la verità dunque ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo che in quel periodo tu eri un adolescente una ragazza che quindi usciva con le amiche che andava a scuola che faceva un po' la vita che fanno i ragazzi di quell'età in quel periodo attraverso i tuoi comportamenti i tuoi modi di fare sei riuscita comunque a mantenere questo segreto con un grande sforzo hai sostenuto un grande stress come facevi a nascondere e come facevi a normalizzare e a farti forza per affrontare la vita quotidiana cosa facevi trapelare e cosa no mandavi dei segnali come ho detto prima dovevo salvare la mia famiglia stavo affrontando un percorso di cui dovevo fidarmi in cui dovevo obbligatoriamente credere e quindi no in nessun modo io volevo far vedere agli altri quello che in realtà c'era dentro di me e lo mascheravo dietro tantissimi sorrisi dietro un'allegria esagerata e cercavo di essere sempre esuberante perché più provavo dolore un dolore che mi portava giù più io cercavo di tirarmi su con un bel sorriso con delle battute urlate e avevo scelto questa parte quella della simpaticona quella dell'allegra e per portare un esempio per far capire ero credo in secondo liceo o in terzo liceo qualcosa del genere mio padre cercava ovviamente il percorso a quel punto era avviato già da un po' quindi non erano non si trattava più di carezze ma di rapporti completi a più non posso devo dire e lui cercava in tutti i modi di trovare delle occasioni per portare avanti il nostro percorso e una di quelle era la mattina presto prima che tutti si svegliassero e quindi se la sveglia era alle sette lui veniva alle sei e mezza alle sei e mi svegliava e si consumava e quel giorno io avevo il ciclo mestruale lui mi prese e consumammo questo rapporto e lui visto che avevo il ciclo mestruale decise di raggiungere l'orgasmo dentro di me cosa che in realtà non accadeva mai e questa cosa mi spaventò terribilmente e mi ricordo che mi toccai mi primavano le mani e lui mi chiese che c'è tutto a posto io sì sì tutto bene andai in bagno mi lavai mi preparai andai a scuola prendevo l'autobus per andare a scuola quindi scesi alla mia fermata dalla fermata alla scuola erano circa 200 metri e mentre camminavo mi cedettero le gambe tanto era il il peso di quello che che mi aveva fatto mi aveva ferito mortalmente mi aveva tradito ancora di più e l'ho odiato profondamente però dovevo andare a scuola e non dovevo far vedere niente quindi mi sono cedute le gambe sono caduta a quattro a quattro zampe così e iniziai a piangere e poi era ora dovevo andare a scuola quindi mi sono tirata su mi sono spolverata le ginocchia mi sono data gli schiaffetti su le guance e ho tirato le le labbra ok andiamo e sono andata a scuola e ho sorriso tutto il giorno quindi no mai non ho mai voluto mandare nessun tipo di segnale quindi Carlotta avevi trovato come dire la tua maschera perfetta per non essere scoperta dagli altri ecco però proviamo a sentire anche l'altra campana la voce invece di chi ti vedeva dall'esterno da chi osservava i tuoi comportamenti la professoressa Anna Maria Nonna gli adulti di riferimento in questo caso di un adolescente dovrebbero sempre essere in ascolto avere una relazione empatica e attenta con loro in questo caso Carlotta mandava effettivamente dei segnali cioè quelli che vengono definiti tecnicamente degli indicatori dei campanelli di allarme quali sono stati cosa ti ha ti ha allertato ti è sembrato strano nel suo comportamento ci sono stati molti indicatori non uno solo il primo in assoluto che mi ha lasciato perplessa è stata proprio in terza liceo quando si avvicinò alla cattedra e mi chiese se potevo aiutarla a scrivere un libro questo libro avrebbe trattato dell'amore di un padre per una figlia e mi colse di sorpresa molto di sorpresa perché lessi in questo qualcosa di stridente è quel qualcosa che si sente a pelle no? ma non si capisce non si riesce a realizzare che cosa possa essere e quindi io non sapevo neanche che cosa risponderle e dissi va bene se posso ti darò una mano ma tornai a casa pensando sempre a tutto questo e la cosa mi mise tanto in allarme tra parentesi non avrei mai immaginato la realtà degli eventi nel modo più assoluto anche perché il padre era un mio collega insegnava matematica con il quale devo dire non avevo mai non ero mai riuscita a stabilire un rapporto di empatia sapete quelle cose che si sentono così senza neanche spiegarsi sapersi dare una spiegazione no? però c'era qualcosa che mi disturbava in questo uomo quindi lontanissimo da me il pensiero che potesse trattarsi di una cosa così però ho cominciato ad osservarla perché non mi piaceva il suo atteggiamento c'era qualcosa che strideva era trasandata non si pettinava o non si prendeva cura di se stessa troppi sorrisi troppe risate troppo stridenti era un comportamento da leader quasi ma era una leader che non corrispondeva ai canoni della leader era circondata da un numero di amiche di persone che avevano anche loro i loro problemi ma certamente col senno di poi non a questo livello e lei sembrava la leader del gruppo perché era così esuberante così eccessiva che però ad una persona che ha un po' d'esperienza nel contatto con i ragazzi non può sfuggire non può sfuggire proprio la ripeto questo stridente contrasto tra ciò che dovrebbe essere un comportamento di una sedicenne e ciò che invece lei dimostrava ma eravamo in terza quindi pensate che sono passati due anni in questi due anni perché in quinta superiore poi è esplosa la bomba in questi due anni ho cercato varie volte di mettermi in contatto con lei cercavo di parlarle vediamo se riesco a capire che cosa c'è che non va in questa ragazza lei non mi ha mai detto niente mai e e quindi a quel punto io non sapevo cosa fare effettivamente per riuscire a risolvere il problema e poi a un certo punto la bomba è esplosa perché si vede che lei era proprio disperata era disperata non ce la faceva più e quindi siamo andate in una stanza vuota del liceo lei mi ha confessato questa cosa che vi assicuro è stata una sensazione anche in me di in un certo senso di responsabilità mia che non ero riuscita a capire perché c'è anche quello poi che subentra come ho fatto a non capire il desiderio enorme di aiutarla di darle amore di darle conforto ma la consapevolezza che io da sola non avrei mai potuto risolvere questa cosa fortunatamente ancora nella scuola esisteva la figura della psicologa nella scuola che ahimè dopo due anni ci hanno tolto ma era una figura indispensabile le ho suggerito vai a parlare con una psicologa perché tuo padre è un mostro gli ho detto proprio queste parole tuo padre è un mostro forti lo capisco però la dovevo scuotere lei aveva bisogno di una scossa quindi in realtà Carlotta lanciava dei messaggi a volte forse non troppo evidenti ma c'erano c'erano questi famosi indicatori e ricordiamo però ai nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento che l'abuso sessuale sui minori è considerato un grave reato ed è perseguibile dalla legge quindi non è solamente un qualcosa che travalica come in questo caso in questa situazione un affetto un affetto deviato ma è un reato vero e proprio e io volevo sapere da te Carlotta in questa situazione quindi di forte disagio di stress in cui tu ti sentivi intrappolata e in cui non avevi trovato la forza di parlare di denunciare quando poi hai trovato finalmente la forza per riappropriarti della tua vita quindi cominciare a proteggere anche te stessa e a capire effettivamente quello che ti stava succedendo questa tua terribile esperienza la denuncia tutto quello che ne hai seguito come anche poi la stesura la scrittura di questo libro sicuramente sono stati un motivo dell'avvio per te di una nuova vita del riappropriarti sicuramente della tua vita e tutto questo è passato attraverso tanti processi di elaborazione e anche grazie a questa tua capacità di resistere nei confronti di quello che ti stava accadendo ti ha permesso di andare avanti di guardare oltre ecco però volevo sapere da te come è cambiata dopo questi avvenimenti la tua vita le tue relazioni con le tue amiche che ci sono ancora adesso persone che ancora stanno vicino a te con l'affetto ecco come sono cambiate queste tue relazioni con gli altri credo che sia importante dire quanto tempo e come vi porto sempre qualche esempio è più facile per me era passato già un anno dalla denuncia e mio padre andò via subito scappò perché ovviamente la storia sarebbe poi uscita fuori e rischiava di essere ucciso dai miei fratelli dai miei familiari e quant'altro e quando io interagivo con le persone era già passato un anno io sentivo la sua voce da un lato che mi diceva ma no loro sono nell'astia quindi quello che stanno dicendo è condizionato non ti devi comportare così devi far cosa e l'altra voce quella della ragione quella della mia ragione che però era offuscata da paura disorientamento depressione c'era un gran casino nella testa ero ancora nella sua stia perché se c'è stata una stia era quella che ha creato lui ero ancora nella sua stia la mia mente era ingabbiata come i polli e il percorso è stato lentissimo dolorosissimo faticosissimo ho fatto tanti anni di psicoterapia e ogni volta che sentivo che stavo toccando un punto cardine del mio percorso della mia elaborazione di questo lutto di questo dramma che avevo vissuto e che pensavo che mi avrebbe portato a sentirmi meglio in realtà andare ad analizzare quel nodo cordiano era significava andare ancora più giù essere ancora più appesantita ancora più triste e questo è successo per tanti anni e la fatica c'è stata ed è stata tanta quindi credo che sia importante dire che nello stesso momento in cui denunci il percorso non è finito ti devi riappropriare della tua mente devi riappropriarti del contatto con il tuo corpo perché io non sapevo neanche gestire e né capire quali erano le mie pulsioni quali erano quelle mie o quali erano quelle indotte perché io dovevo fare tante volte tanti atti sessuali ma io veramente quando desideravo avere un rapporto io dove ero in tutto questo ok e quindi il percorso con la psicoterapista è stata molto molto è stato centrale ovviamente oltre alle figure che avevo intorno a me la mia famiglia i miei amici il mio compagno e e poi l'università decidere di iniziare l'università in uno stato depressivo confuso dove talvolta lo ammetto fumavo marijuana perché sentivo mi dava l'impressione che mi aiutasse che mi rilassasse e quindi in realtà mi portava ancora di più in un altro stato confusionale sicuramente non non era quella la strada giusta ok però in un modo o nell'altro piano piano l'ho trovata l'ho trovata e mi sono realizzata professionalmente e grazie al mio compagno ho capito io cosa voglio io chi sono che questo è il mio corpo che posso dire di no e a sognare e iniziare a realizzare i progetti che che sono della mia vita ok quindi è faticoso tanto faticoso però si può fare e ci se la fa sì bisogna bisogna farcela noi abbiamo sempre richiesto la supervisione tecnica di chi si occupa di politiche di genere a livello istituzionale e la dottoressa Simona Di Paolo è sempre stata al nostro fianco nel redigere e nel supervisionare il progetto e nel renderlo il più possibile efficace nei confronti soprattutto dei giovani allora buonasera a tutti e intanto grazie a Carlotta di questa sua di questa sua storia e di questa volontà di iniziare questa testimonianza parlando con lei insomma mi ha informato che è una delle prime volte che inizia questo suo percorso come testimone e trovo particolarmente interessante questo racconto e questo libro l'ho letto in questi giorni e mi ha colpito tantissimo rappresentato benissimo tutto diciamo la rappresentazione del plagio del plagio psicologico che suo padre le ha fatto e tutto quello quel gancio mentale assoggettamento mentale che ha poi determinato anni di sofferenza e anni di assoggettamento e di sudditanza al volere del padre per cui tutto quello che ha poi determinato lo stress psicologico il disagio e la condizione di disperazione e angoscia che ha vissuto per tanti anni altra cosa che mi ha particolarmente colpito è proprio perché poi diciamo è su quello che noi lavoriamo sono stati gli snodi della storia e per cui la sua professoressa Anna Maria che ha saputo cogliere i segnali di disagio questa è una cosa che ci riguarda particolarmente perché anche grazie a tutta la sensibilizzazione con attività di prevenzione ma anche con tutte le attività primarie agite nella scuola noi come professionisti quello che andiamo a promuovere nei docenti e negli insegnanti è la lettura del disagio la lettura del disagio la lettura degli indicatori mi ha colpito tantissimo come Anna Maria la sua professoressa ha saputo cogliere da questi comportamenti della ragazza un messaggio importante un messaggio di anomalia nel comportamento di Carlotta e tutto quello che ne deriva da questa condizione mentale e come ha saputo poi agganciarla con il tempo perché poi da quello che ho potuto leggere dal libro mi ha colpito tantissimo è il rapporto fiduciario che la stessa professoressa ha cercato di instaurare con la ragazza cosa che dovrebbe essere implicita nel rapporto docente discente tra allievo e professoressa e prima anche parlando con la professoressa forse una delle poche che è ancora appassionata in questo modo così dedicato ho sentito bellissime parole quali noi professori non dovremmo solo insegnare ma dovremmo instaurare un rapporto di educazione di ascolto e di dedizione alla relazione con i ragazzi questo aspetto del libro mi ha molto molto colpito e mi ha colpito ulteriormente la grande capacità di Anna Maria di attivare la rete dei servizi perché Anna Maria ha subito messo in contatto ha subito messo insomma ha sollecitato Carlotta a entrare in contatto con uno psicologo non diciamo rendendosi conto che ognuno ha dei ruoli e delle competenze nell'ambito di un percorso di aiuto e insieme allo psicologo e a lei come figura di riferimento sono riuscite ad accompagnare Carlotta ad una elaborazione lei giustamente ci dice che non avrebbe mai denunciato il padre dico giustamente perché i meccanismi che sottointendono una condizione di così alto stress sono altissimi e sono diciamo complessi da raccontare l'elaborazione l'accettazione anche di una denuncia sarebbe poi sopraggiunta ma con un lungo percorso che poi Carlotta sicuramente si è concessa di fare inizialmente ci ha raccontato che hanno denunciato perché i fatti si riferivano anche se lei era maggiorenna quando lei era una minorenne e in questa rete sono sopraggiunte le forze dell'ordine nel libro c'è anche la denuncia che insomma lascia intendere come i vari i ruoli diversi dei servizi sono entrati in campo e attivamente a supportare Carlotta ecco questo per diciamo anticipare il mio messaggio l'esperienza di Carlotta è stata un'esperienza fortissima è un'esperienza di alti contenuti umani e purtroppo molto presenti anche nel nostro territorio come responsabile in questo territorio di politiche di genere e anche di servizi alla persona pochi giorni fa abbiamo dedicato un tempo al tema della violenza di genere e abbiamo potuto avere dei report che ovviamente ci hanno informato ci hanno aggiornato sui dati ancora oggi ci sono dati importanti che ci evidenziano un'altissima incidenza di violenza sulle donne e sui minori ci sono stati anche qui casi di abuso e il lockdown da marzo a giugno ha amplificato queste situazioni di violenza e personalmente insieme a una collega di Bracciano subito dopo il lockdown abbiamo dovuto allontanare una ragazza vittima di abusi intrafamiliari per cui una di queste su Bracciano ma ce ne sono state anche altre su altri paesi di questo territorio qui abbiamo dei servizi che ovviamente fronteggiano la violenza sulle donne e sui minori abbiamo due sportelli antiviolenza uno presso l'ospedale di Bracciano che fa riferimento a un CAV anche sopra distrettuale che è il CAV di Formello che è un centro proprio antiviolenza e un altro è lo sportello di Federica Mangiapello su Anguillara poi abbiamo un altro e ovviamente negli sportelli antiviolenza vengono trattate le donne che hanno bisogno di consapevolizzare quello che stanno vivendo e dico consapevolizzare perché di fatto la violenza va consapevolizzata come situazione che una donna sta subendo ce lo dice Carlotta in una tipologia di violenza quanto poi lei nel tempo si è potuta rendere conto che stava subendo un assoggettamento e comunque una forma di violenza molto grave così anche le donne passa del tempo prima che si rendano conto che non sono le autrici della loro condizione perché spesso vengono colpevolizzate spesso vivono una condizione di colpa e di vergogna ma che possono rendersi conto che sono vittime e che comunque attraverso un percorso possono fuoriuscire da questa spirale della violenza poi ci sono degli sportelli lo sportello per la famiglia che per eccellenza prima degli sportelli storicamente in piedi qui sul territorio dal 2006 che ha potuto anticipare l'emersione del tema della violenza su questo territorio perché insieme agli sportelli antiviolenza che sono sopraggiunti dopo lavorano in rete e lavorano per ovviamente agganciare le donne e accompagnarli in un percorso d'aiuto questo in collegamento con le forze dell'ordine che sono assolutamente in contatto e in raccordo con i servizi appena appena enunciati con le scuole proprio perché con le scuole proprio si agganciano i minori che vivono o in condizioni di violenza assistita perché le mamme vivono la violenza o loro stessi sono vittime stesse di violenza con i servizi sociali i servizi del territorio i cinque comuni hanno appunto i servizi sociali attivi e in collegamento con gli stessi sportelli e con il consultorio con il TSMRE che è il servizio dedicato ai minori devo dire che in questi ultimi cinque sei anni la rete si è sempre più consolidata e la cosa che più è emersa è che si parla un linguaggio comune è stato elaborato un protocollo un protocollo riconosciuto formalmente ma da quella che è la mia personale esperienza quello che a me interessa anche come responsabile è il il modus operandi cioè l'atteggiamento mentale di potersi raccordare e regolare secondo ruoli e competenze come ha fatto Anna Maria che non si è diciamo centrata solo sulla sua figura di professoressa ma ha capito che una situazione così grave così complessa va affrontata secondo determinati saperi e secondo una multidisciplinarità delle competenze per cui il fenomeno della violenza va trattato in maniera multidisciplinare e contestualmente in rete cioè noi diciamo sempre che la garanzia di un intervento della riuscita di un intervento è quando tutti i nodi della rete quando tutti i servizi contestualmente fanno il proprio lavoro e questo garantisce un risultato di sicurezza e di tutela e sappiamo come ogni volta che Generazione Musica insieme ai servizi del distretto diciamo promuove e pubblicizzerà i numeri dei nostri servizi sul territorio per cui ci saranno sul profilo di Generazione Musica i nomi dei servizi e i relativi numeri di telefono e questo insomma aiuterà le donne e chi avrà intenzione di segnalare o di inviare situazioni di disagio o diciamo situazioni che necessitano una decodifica del bisogno grazie non sottovalutare di me niente sono comune sempre una combattente è una regola che imparca tutto il universo chi non manda per qualcosa già comunque perso perché se la paura fa rimare non ho mai smesso di luttare per tutto quello che è giusto e per ogni cor che ho desiderato per chi mi ha chiesto aiuto per chi mi ha veramente amato amato e anche se qualche volta mi porta da qualcuno non mi è ringraziato mai so che il conto ritorno a tutto quello che fa e non è una regola che fa torno di messo chi non lo sa per qualcosa non lo sa ma non lo sa ma non lo sa ma 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 Grazie a tutti